bene buongiorno a tutti e ben ritrovati con il consueto appuntamento mensile con il contenzioso che questa volta avrà una disciplina trasversale eh eh come sempre i saluti iniziali per cui oramai sono famoso insomma eh come sempre ringraziamo l'ordine dottori commercialisti e gli esperti contabili di Torino che ci mette a disposizione questo spazio mensile se votiamo il nostro presidente Luca Svigisio la nostra super direttrice L'Orella Testa e le immancabili ragazze della segreteria che ci aiutano sempre effettivamente nel collegamento e nella realizzazione di questi di questi nostri interventi eh bene oggi come dicevo l'appuntamento sarà più trasversale infatti ehm si parlerà di criptovalute di sanatorie le criptovalute di blockchain e infatti abbiamo qui oggi con noi eh Federico Moine che eh modererà eh questo nostro questa nostra chiacchierata di un paio d'ore eh Miguel Spordamaglia eh e Luca Piovano referenti per l'ordine di Torino per il gruppo di lavoro sulla blockchain e le criptovalute poi al fondo io farò alcune considerazioni più attinenti insomma a quella che è la mia specialità quindi mi taccio non faccio perdere ulteriore tempo e lascio subito la parola Federico. Prego. Grazie Emanuele buongiorno a tutti eh è un piacere ritrovarci qui perché in effetti come ha detto Emanuele oggi è un incontro che riteniamo importante per la sua trasversalità eh abbiamo fatto tra noi diciamo coordinatori un po' di riflessione su questo tema e eh ci siamo anche chiesti il perché eh fino ad oggi eh condividendo l'esperienza comune questa sanatoria delle criptoattività è rimasta un pochino sottotraccia. Eh abbiamo la sensazione che eh taluni che eh in particolare persone fisiche che posseggono criptoattività eh diciamo abbiano paura a parlarne eh abbiano un po' di timore a far emergere questo possesso e eh fino ad oggi diciamo nella stragrande maggioranza dei casi eh non sono state dichiarate queste criptoattività e tantomeno i redditi che eh molto spesso ne sono derivati. Eh abbiamo quindi ritenuto importante organizzare questo momento di confronto proprio perché sentiamo il bisogno di dare qualche risposta più articolata, qualche consiglio più articolato anche in relazione direi anche e soprattutto in relazione ai rischi e al possibile contenzioso che ne può derivare in caso appunto di omissione degli adempimenti dichiarativi e quindi ecco che ehm insomma questo momento di confronto lo attendiamo con particolare interesse eh verrà tracciato un quadro generale da Miguel Scordamaglia sulla realtà delle criptoattività italiane poi si entrerà nello specifico con l'intervento di Luca Piovano che ci illustrerà le caratteristiche della sanatoria delle criptoattività anche alla luce dell'ultimo provvedimento dell'agenzia delle entrate del sette agosto scorso. Infine Emanuele ci traccerà un panorama su questa tematica che ho introdotto rischi e eh difesa del contribuente perché prevediamo ma con questo lancio solo un tema che l'attenzione da parte dell'agenzia delle entrate o degli organi comunque accertatori su questo tema eh sia diciamo in costante crescita. Detto questo eh lascio subito la parola a Miguel Scordamaglia eh ricordo ai partecipanti la possibilità di porre eh quesiti anzi li attendiamo e alla fine delle relazioni i relatori eh daranno le relative risposte. I quesiti debbono essere eh redatti in forma scritta nell'apposita area o nella chat. Ringrazio e cedo subito la parola all'amico Miguel. Grazie Federico confermatemi solo che si senta la mia voce e che si vedano anche le slide che sto per proiettare. Io non vedo niente vedo solo le slide. Mi confermate che si vedono sì? Si vedono sì. Perfetto ottimo benissimo. Buongiorno a tutti come ha detto il collega Federico Moine io vi parlerò aspettate che sto cercando di togliere questo pannello di controllo un attimo. Mi vuole far uscire dal webinar cosa che non vorrei fare. Ok perfetto. Vi parlerò delle criptoattività che è la parte generale dove andiamo a capire che cosa sono le criptoattività e come queste vengono inquadrate all'interno della normativa attuale. Prima di iniziare io prima di iniziare ho chiesto a chat GPT di darmi una definizione di cosa sono le criptoattività per per l'intelligenza artificiale. Mi ha dato una serie di definizioni. Io ho scelto questa che mi sembrava carina dove dice che le criptoattività sono come diamanti digitali luminosi attraenti e mai troppo convenienti. Noi sappiamo che chat GPT a volte delle cose se le inventa. Questa qua mi era sembrata carina e in qualche modo riflette un po' che cosa sono. Ma andiamo a vedere cosa dice la nostra legge di bilancio approvata alla fine dell'anno scorso rispetto alle criptoattività. La legge di bilancio introduce all'interno dell'articolo 67,1 la lettera C-Sexies che individua una nuova categoria di redditi diversi e all'interno di questo di questa lettera C-Sexies va a definire che cosa sono le criptoattività che sono appunto rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Questo è quello che dice la legge di bilancio quindi da una definizione molto precisa e puntuale che viene poi se noi andiamo a vedere la normativa europea viene ripresa pari pari da quella che è la normativa che poi è uscita subito dopo nel regolamento 1114 del 2023 dove vengono analizzate considerate il cosiddetto regolamento unica tutte quelle che sono le criptoattività. Il 16 maggio del 2023 il consiglio approva il regolamento sui mercati delle criptoattività che stabilisce un quadro normativo armonizzato per le criptoattività a livello Unione Europea. Cosa sono per il regolamento unica le criptoattività? Vediamo che la definizione è praticamente identica a quella che troviamo nella nostra legge di bilancio. Le criptoattività sono rappresentazioni digitali di valore o di diritti e possono essere trasferite e archiviate elettronicamente tramite tecnologia registro distribuito DLT. Adesso vediamo poi tra poco di che cosa di che cosa stiamo parlando o tecnologia analoga. Andiamo ad analizzare quelli che sono i concetti chiavi su cui si fonda la definizione, queste definizioni che abbiamo visto fino adesso e vediamo che questa rappresentazione digitale di valore e di diritti ho scritto tutte le strade digitali portano al token. Che cosa vuol dire il token? Il token è un gettone virtuale con valore collegato ad un contesto, immaginate come se fossero le fischi di un casino, quindi hanno un valore all'interno di un determinato contesto e questo token è una rappresentazione digitale di una criptoattività. I token possono essere o token fungibili, quindi fungible token che sono uguali uno all'altro e quindi non hanno, non sono indifferenziati e le criptovalute appunto sono token fungibili. Abbiamo il bitcoin, l'ether, il sol, poi vedremo che ce ne sono anche altre e la prima categoria è quella dei token fungibili. La seconda categoria a cui possiamo fare riferimento è quella degli nft o non fungibili token, gettoni non fungibili unici, se qualcuno ha avuto modo di prendere, di bazzicare un po' il mondo degli nft conoscerà cosa sono i cripto kitties di cui ho messo qua l'immagine nelle slide, i cripto punks e il boardate yacht club che sono una serie di collezioni dove, che vengono vendute o collocate gratuitamente nel caso dei cripto punks, se non ricordo male era andata così per chi aveva un wallet venivano regalati, adesso in realtà hanno dei valori che si aggirano da un minimo di un ether che oltre 1000 euro insomma fondamentalmente, quindi lì è tutto un mondo. Per quanto riguarda gli nft c'è da dire che nonostante siano non fungibili c'è una parte della dottrina che inizia a dire che anche pur non essendo fungibili potrebbero essere considerati parzialmente fungibili e quindi in teoria rientrerebbero anche nella normativa del mica, però qua chiaramente c'è tutta una discussione in atto quindi non prendete per definita questa affermazione che faccio. Andiamo a vedere cosa dice sulle criptovalute o fungibili token il nostro collega Capaccioli che lo definisce come un sistema di messaggistica decentralizzato che genera un'unità matematica criptografica scarsa e cronologicamente inalterabile, fondamentalmente una valueless virtual currency, che cosa vuol dire? Che è una moneta che non ha un valore intrinseco, tra l'altro non ha neanche un valore dato dalla legge, quindi non è una moneta corso legale, ma non è intrinseco quindi il valore al protocollo e o all'emittente, ma è esterno e quindi è generato questo valore da utilità all'interno di una comunità, da aspettativa, spero che questo acquisisca valore, da speculazione, eccetera eccetera. Qua io ho ripreso nell'immagine che vedete, questa immagine è ripresa dal sito della console dove spiega un po' qual è il meccanismo. Noi abbiamo qua due computer, c'è un testo, il messaggio che viene inviato, viene criptato con la chiave pubblica del destinatario, quindi vedete che c'è A e B, la chiave pubblica del destinatario B, il testo viaggia criptato e arriva, quando arriva al destinatario viene decriptato con la chiave privata di B che può a questo punto qua ricevere il testo in chiaro. Cosa dice questo meccanismo? Ricordatevelo perché vedrete che lo riprenderemo dopo in una delle definizioni successive. Cosa dice Consob rispetto a le criptovalute? Si tratta di una valuta virtuale nascosta nel senso che è visibile, utilizzabile solo conoscendo un determinato codice informatico, le cosiddette chiavi di accesso pubblica e privata a quelle che abbiamo appena visto. E dice anche, e questo anche è molto importante perché tutta la normativa su cui stiamo ragionando in questo momento si appoggia su queste affermazioni, che è una nuova categoria di investimenti altamente speculativi e ad alto rischio. Pongo il focus sul fatto che siano investimenti poi chiaramente che siano altamente speculativi e ad alto rischio fa parte poi delle dinamiche del mercato. Vedremo che per quanto riguarda le criptovalute in particolare possono essere molto molto volatili ma anche no a seconda del tipo di criptovaluta che andiamo a considerare. Quali sono le tipologie di criptoattività o criptoassets secondo il MICA che va a considerare? Parliamo sempre ancora di concetti chiavi. Asset reference token è un token collegato ad attività, mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o una combinazione di due compresa una o più valute ufficiali. Non si tratta in questo caso di moneta elettronica in senso stretto ma di un token quindi un gettone che ha come sottostante o altre valute quindi un paniere di valute oppure dei beni oro quello che insomma a cui si vuole si vuole fare riferimento. Poi abbiamo gli e-money token, electronic money token, token di moneta elettronica che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale tipicamente adesso poi vedremo che tra l'altro è molto diffuso il tether detto anche usdt fa riferimento al dollaro nel caso specifico c'è e ci sono anche c'è anche il tether in euro e c'è anche il tether se non ricordo male anche in yen sempre con questo con questo criterio quindi fa riferimento il token a una determinata valuta ufficiale. Poi abbiamo ancora un'ulteriore categoria che è quella degli utility token, token di utilità che sono destinati unicamente a fornire l'accesso a un bene o un servizio prestato dal suo evitente cioè tipo potrebbe essere anche ci sono anche dei token che consentono di andare a mangiare al ristorante a New York che hanno fatto qualche ristorante aveva fatto delle prove ma ci sono anche altri token che possono dare accesso ad altre cose a un libro o un'opera d'arte o altre altre altri beni o servizi. Attenzione dico io a non confondere le criptovalute con criptoattività vi spiego a cosa mi riferisco nel sito della Banca d'Italia dove c'è la parte di economia per tutti dice che le cosiddette valute virtuali o valute digitali o criptoattività o criptovalute sono rappresentazioni digitali di valore utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento che possono essere trasferite negoziate o archiviate elettronicamente. Quando dice e sembra che sia la stessa cosa valute virtuali o valute digitali o criptoattività o criptovalute attenzione perché la valuta virtuale è una criptoattività ma non è le criptoattività non sono solo valute virtuali nel senso che la valuta virtuale o criptovaluta è una specie del più ampio genus delle criptoattività questo da tenere presente perché quando parliamo di criptoattività adesso poi faremo anche un ragionamento poi sulla terminologia andiamo a vedere quelle che sono le quando parliamo di criptoattività le valute digitali e le valute virtuali sono una di queste categorie come abbiamo visto anche poi poco fa. A questo punto ci rendiamo conto che tutto gira sul registro digitale distribuito. Io qua ho messo le immagini di Matrix perché mi sembrava rendesse molto bene il mondo in cui ci troviamo e vediamo ulteriore definizioni. Nelle definizioni iniziali sia quella della legge di bilancio che del mica si parla di DLT, Distributed Ledger Technology. Che cos'è il Distributed Ledger Technology? Una tecnologia di registro distribuito che consente l'archiviazione, l'aggiornamento e la convalida decentralizzata di dati criptati. La tipologia di DLT più conosciuta è la blockchain di cui si parla insomma permanentemente sentiamo parlare quando entriamo in questo mondo. Quindi DLT quando sentite parlare DLT è questa tecnologia che viene utilizzata e una di queste applicazioni, di queste tipologie è la blockchain. Poi si parla di libro mastro decentralizzato. Il libro mastro decentralizzato è un libro mastro virtuale. Immaginate un enorme libro mastro virtuale dove l'accertamento e la validazione dei dati non avviene in modo accentrato come se andassimo dal notaio che diciamo certifica il movimento, l'operazione o quello che è stato effettuato ma effettuato dalla community di computer o dei nodi quindi in modo decentralizzato che valida ogni dato incrementale registrato e per cambiarlo e questo lo rende particolarmente difficile bisognerebbe intervenire su ogni pc del network che valida l'operazione cosa praticamente impossibile. È reso sicuro vi ricordate che vi ho detto di ricordare di tenere presente il concetto di chiave pubblica e privata e reso sicuro con l'uso della criptografia a chiave doppia di cui abbiamo parlato prima. Altri amici che serve conoscere in questo mondo. Il primo quindi parliamo sempre di definizioni e sono i cosiddetti CASP che non è il fantasmino di CASPER ma sono i crypto assets service providers quelli che sono fondamentalmente i fornitori di servizi di criptoattività che sono appunto regolamentati dal MICA. Poi quando sentite parlare di DeFi sarebbe decentralized finance finanza decentralizzata quello di cui stiamo parlando fino adesso poi vedremo anche quando andremo a vedere le dinamiche di mercato a che cosa ci riferiamo in modo più specifico. Si sentirà parlare anche di staking che tra l'altro l'idea anche di tassarlo è un sistema di validazione delle transazioni basato sull'impegno di proprie criptoattività. Praticamente facciamo un esempio concreto io metto a disposizione e blocco dei miei ether parliamo di Ethereum in questo caso qua e bloccando questi questi ether io consento di fare di validare delle transazioni al nodo al soggetto che presso cui lo blocco e per questo io vengo remunerato quindi questo è lo staking sostanzialmente. Poi un'altra terminologia che si usa molto e a volte viene fraintesa è quello è l'altra parola è quello dello smart contract. Lo smart contract contrariamente a quello che si potrebbe immaginare non è un contratto intelligente ma è un software sono dei software che eseguono le operazioni all'interno delle blockchain e queste questi so questo software in alcuni casi in alcune di queste operazioni possono corrispondere a dei contratti in senso giuridico ma non necessariamente si parla di se si tratta di contratti in senso giuridico questo è da tenere sempre in considerazione. Altro termine ICO initial coin offering che è un modo di raccogliere capitale come immaginate traslato dalle IPO quelle le quotazioni di borsa solo che queste cose qua queste diciamo operazioni qua vengono fatte mediante l'utilizzo della blockchain che prevede l'offerta agli investitori di criptovalute o di token digitali. Andiamo avanti con i nostri amici e abbiamo ulteriori tre concetti e con questo siamo già verso la fine dei concetti che sono hybrid token security token e stable coin quando si parla di hybrid token stiamo parlando di una categoria di token che possono rientrare in più categorie le singole categorie di token non si escludono a vicenda magari sono un mix e quindi potrebbe rientrare nella categoria dei security e degli utility token quindi in questo senso qua non ha un'unica caratteristica. Abbiamo ancora i security token che sono rappresentativi token rappresentativi di diritti patrimoniali e o di diritti amministrativi quando parliamo di diritti patrimoniali parliamo di diritto di partecipare alla distribuzione dei futuri dividendi per esempio e quando parliamo di diritti amministrativi per esempio parliamo di diritti di voto su determinate materie. Infine troviamo le stable coin che sono una criptovaluta che è progettata per mantenere ancorata la sua valorizzazione ad un asset o paniere di asset. L'abbiamo visto prima e ne esistono tipicamente due sottocategorie le asset baked appunto che sono quelle che hanno un sottostante fisico tra virgolette nel senso che parliamo di sempre di valute valute fiat o altri altri asset e quelle algoritmiche che mantengono la propria stabilità sulla base di un algoritmo che purtroppo non è perfetto abbiamo visto mi sembra l'anno scorso il caso di terra e luna che era appunto un una stable coin algoritmiche basata su su appunto algoritmica che non ha funzionato tanto bene tant'è che ha zerato il proprio valore nel giro di pochi giorni facendo parlando di di criptovalute ho fatto una mi è venuta una riflessione linguistica che condivido con voi e sono andato ad analizzare come veniva tradotto criptoattività da dove veniva originato e quali erano appunto le modalità di traduzione criptoassets in inglese in spagnolo in francese e in italiano vediamo che in inglese si parla di criptoassets quando parliamo di attività di attivi in senso stretto ma quando parliamo di attività parliamo di activities in spagnolo stessa cosa activos quando parliamo di assets e quindi di attivi veri e propri e attività quando parliamo di attività in francese activité stessa cosa in italiano è stato tradotto attività uguale ad attività quindi c'è il rischio di pensare almeno inizialmente quando uno legge criptoattività se uno non ha non è formatato sulle attività dello stato patrimoniale pensa che si tratti di attività fatte in cripto invece no parliamo proprio di assets di attivi ecco quindi infatti la domanda che mi facevo forse era più chiaro parlare di criptoattivi sappiamo bene che nello stato patrimoniale non ci sono gli attivi e i passivi ma c'è l'attività e passività quindi ci sta anche questa traduzione però è importante tenere sempre presente che stiamo parlando di assets e non stiamo parlando di attività come mondo delle cripto detto questo andiamo a vedere ancora un'ultima parte che riguarda come posso il fatto che di come possano essere utilizzate le criptoattività e questo ci viene in aiuto il mica di stabilisce che possono essere utilizzate sia come mezzo di pagamento scambio in questo caso parliamo di criptovalute a fini di investimenti quando conferiscono diritti di proprietà e per avere accesso a beni o servizi i famosi utility token di cui abbiamo parlato prima oppure per una combinazione di queste caratteristiche quindi andiamo a finire in quelli che sono gli hybrid token ci avviamo verso la fine e andiamo a vedere quello che è il mercato delle criptovalute a livello mondiale mondiale con un cenno poi sugli nf sull'utilizzo di wallet nft anche qua a livello mondiale io ho preso i dati in questo caso qua del mercato mondiale criptovalute da coin market cap che è un sito di riferimento in questo mondo per andare a vedere diciamo la capitalizzazione il volume anche le quotazioni delle varie cripto se poi qualcuno vuole andare a vedere lo trova facilmente su internet al 20 settembre che quando ho preparato iniziato a preparare questa presentazione la capitalizzazione di mercato era di 1,01 trilioni dove per trilioni sono migliaia di miliardi parliamo di scala corta cioè della scala inglese con un volume di 26,08 miliardi di euro di cui in defy vi ricordate la definizione di prima decentralized finance quindi in finanza decentralizzata il 7 per cento 7,7 per cento pari a 2 miliardi e in stable coin le altre quelle di cui parlavamo che sono ancorate a valute o a panieri di valute erano 23,7 miliardi di euro pari al 90 per cento circa ieri sono andato a ricontrollare e vedete che la capitalizzazione passa da un miliardo da un trilione a 1,27 quindi un aumento del 30 per cento e un volume che passa da 26 a 86 tre volte oltre tre volte il volume del misurato il 20 settembre analogamente vedete che le percentuali in defy stable coin rimangono praticamente molto simili in defy siamo sul sette e mezzo per cento e in stable coin intorno al 90 per cento e un altro punto un altro elemento che sono andato a vedere e che vi qua vi ho riportato e la posizione dominante del bitcoin cosa vuol dire posizione dominante del bitcoin rispetto alla capitalizzazione di mercato quanto è in bitcoin e quanto è in altre cripto e vedete che la posizione bitcoin intorno al 50 per cento e non è cambiata tanto nel ieri era al 53 per cento circa ovviamente parliamo di cifre importanti ma se uno pensa che il mercato mondiale delle cripto valute sia come dire immenso confrontandolo con quelli che sono i pil di alcuni paesi tipo l'Italia che ha duemila miliardi di pil parliamo di circa il 50 60 per cento del pil italiano e quindi è importante ma non è una non è che stiamo parlando di 70 mila miliardi o del pil mondiale qua vedete un grafico della capitalizzazione di mercato l'andamento che ha avuto ad un'oscillazione pazzesca molto importante se vedete è arrivata a ad avere una capitalizzazione intorno ai 3 trilioni quindi ai 3 mila miliardi nel 2022 poi è scesa adesso sta viaggiando intorno ai mille miliardi di capitalizzazione con volumi giornalieri quindi nelle 24 ore che inizialmente erano risibili e sono arrivati nei momenti di punta anche a 300 miliardi giornalieri adesso è in discesa però ultimamente c'è una fase di risalita sia dei prezzi che anche dei volumi vediamo ancora il grafico sulla bitcoin dominance e vedete che il bitcoin rispetto all'ether rispetto al tether usdt di cui parlavo prima rispetto a binance coin e a ripple e dominante la seconda criptovaluta è l'ether lo vedete nel grafico e quella in verde poi abbiamo l'osdt bnb e binance e ripple come altre e poi ci sono tutte le altre sul sito di coinmarketcap è molto carino perché vedete tutte le criptovalute ce ne sono decine decine quindi lì potete andare a vedere proprio tutte tutte declinate l'ultima parte l'ultimo concetto è l'ultimo parte del mercato che volevo far vedere era la misurazione questa è una misurazione trimestrale di quelle che sono i numeri di wallet attivi in NFT in tutto il mondo quindi quanti wallet hanno fatto almeno un'operazione di acquisto vendita di NFT in questo periodo che viene misurato e vedete che la punta ce l'abbiamo nel quarto trimestre del 2021 che erano quasi due milioni di wallet e anche nel primo trimestre del 2022 ultimo ultimo concetto il che che vi volevo lasciare il 7 settembre molti di voi lo sapranno del 2021 il bitcoin è stato adottato come valuta legale per la prima volta dallo stato del salvador con questa con questa cosa che vi dico vi dico ancora c'è un articolo che lascerò ho scritto un annetto fa sul più divulgativo su NFT criptovaluto e metaverso chi vorrà leggerselo lo troverà poi sugli atti del convegno sul sito dell'ordine dove ci saranno gli atti del convegno e la documentazione di sopporto con questo ho finito passo la parola al prossimo relatore e vi ringrazio per l'attenzione grazie miguel per la tua eccellente relazione naturalmente ti chiederei poi di rimanere a disposizione anche per i quesiti e il dibattito successivo detto questo entriamo sempre più nel merito della giornata odierna dando la parola a luca piovano che ci illustrerà le caratteristiche della sanatoria delle criptoattività grazie luca a te la parola grazie federico grazie miguel grazie manuele per l'organizzazione di questo incontro allora spero si veda lo schermo confermo che si vede luca perfetto grazie ok io vedevo ancora la schermata precedente allora sanatoria delle criptoattività direi questa sconosciuta visto che se ne sente parlare poco e non sembra riscuotere il successo che probabilmente l'agenzia delle entrate sperava c'è questo provvedimento dell'agenzia delle entrate del 7 agosto 2003 che tenta di chiarire come deve essere compilata l'istanza che procedura bisogna seguire per poter aderire a questa sanatoria vediamo di cosa di cosa si tratta innanzitutto è opportuno sottolineare ma l'ha già accennato miguel nel suo intervento che il 2023 è un po' l'anno di volta siamo stati abituati a un'assenza di normativa riguardante le criptovalute siamo stati abituati a qualche provvedimento estemporaneo dell'agenzia delle entrate qualche risoluzione qualche risposta interpello ma senza la presenza di una fonte normativa primaria il 2023 è stato l'anno della normativa cripto perché si sono succeduti tutta una serie di provvedimenti e li vediamo qua elencati non in ordine cronologico ma probabilmente in ordine di importanza abbiamo la legge di bilancio a cui ha già accennato miguel nell'intervento precedente con l'introduzione nel twitter di una specifica normativa fiscale riguardante le criptoattività poi c'è il mica di cui si sente parlare da ormai lungo tempo che è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell'unione europea il 31 maggio e si sono susseguiti nel tempo il comunicato MEF del 13 giugno con la proroga il 30 settembre del versamento dell'imposta sostitutiva sulle criptoattività poi nuovamente è ulteriormente prorogata come vedremo ancora successivamente poi il 15 di giugno è stata emanata una bozza di circolare dell'agenzia delle entrate riguardante tutta una serie di chiarimenti sul trattamento fiscale delle criptoattività la consultazione è stata una consultazione pubblica la consultazione si è chiusa ma ancora non ha visto la luce la circolare definitiva dell'agenzia delle entrate ci sono state poi ancora una risoluzione che ha istituito i codici tributo per il versamento delle varie imposte sostitutive e poi c'è il provvedimento del 7 di agosto che ha emanato le disposizioni di attuazione proprio per il procedimento di regolarizzazione delle criptoattività la legge di bilancio l'ha già detto miguel ma è opportuno sottolinearlo nuovamente perché è un po la base di di tutti i ragionamenti che è necessario fare e ha introdotto la lettera c qui in questo è l'articolo 67 quindi è stata definita la criptoattività e viene definita come una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente utilizzando la tecnologia del registro distribuito o una tecnologia analoga come vengono tassate queste rappresentazioni di valore le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso permuta o detenzione di criptoattività comunque denominate non inferiori complessivamente a 2000 euro nel periodo di imposta sono soggette a tassazione e non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta fra criptoattività e questo è da sottolineare aventi uguali caratteristiche e funzioni quindi l'agenzia delle entrate ha un po' cambiato rotta rispetto a quello che aveva sostenuto nelle circolare nelle risposte a interpello precedenti su questo so che Emanuele farà poi un focus nel suo intervento e quindi non mi dilungo e ha comunque introdotto questa soglia minima di esenzione e ha specificato che i trasferimenti cripto su cripto come parte della dottrina già sosteneva seppur in presenza delle semplici circolari dell'agenzia delle entrate non fossero soggetti non sono soggetti a tassazione a patto che le cripto abbiano uguali caratteristiche e funzioni quindi è importante la suddivisione delle cripto nelle varie categorie che ha accennato miguel nel suo intervento quindi se si rimane se si fanno trasferimenti cripto su cripto all'interno di quella specifica macro categoria allora le plus e le minus derivanti da questi trasferimenti da questi cambi fra cripto non sono tassati il calcolo delle plusvalenze come deve essere fatto le plusvalenze sono costituite dalla differenza per il corrispettivo percepito oppure il valore normale delle criptoattività permutate il costo o il valore di acquisto le minusvalenze sono le plusvalenze sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze e se le minusvalenze superano le plusvalenze e lo superano per un importo superiore a 2000 euro l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi ma non oltre il quarto e a condizione ovviamente che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate quindi importante questa possibilità di riportare le minusvalenze la legge di bilancio ha poi cioè la legge di bilancio ha normato le criptovalute non solo introducendo quello specifico articolo del del tuir ma in una serie di commi dell'articolo 1 che qui sono sono uno di seguito all'altro riportati ha normato anche altri aspetti quindi è stata disciplinata la successione è stata disciplinata la donazione è stato disciplinato il metodo di determinazione del costo di acquisto che è importante sottolinearlo deve essere documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente in mancanza il costo è pari a zero e su questo scusate su questo ci tornerò poi in seguito nel momento in cui vedremo che documentazione va allegata all'istanza che deve essere presentata all'agenzia delle entrate e l'agenzia delle entrate la legge di bilancio ha poi specificato che i proventi derivanti dalla detenzione di criptoattività sono soggetti a tassazione senza possibilità di deduzione quindi non sono ammessi costi in diminuzione delle plusvalenze che sono state maturate con operazioni su criptovalute ho riportato questo perché è interessante anche se non riguarda le persone fisiche ma riguarda il trattamento delle criptoattività nei bilanci dell'esercizio stato introdotto il comma 3 bis all'articolo 110 del tuir con il quale è stato specificato che in deroga alle norme del tuir precedenti non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle criptoattività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico mancava anche qui prima di questo intervento una chiara presa di posizione su come dovessero essere trattate le criptovalute in bilancio si discute ancora su dove debbano essere contabilizzate se fra le immobilizzazioni titoli le rimanenze insomma la dottrina si sbizzarrisce ma è stato importante questo questo comma che è stato introdotto nel tuir proprio perché è specificato che le differenze che possono essere anche molto importanti vista la fluttuazione del valore delle criptovalute non rilevano ai fini delle imposte anche ai fini nirap la legge di bilancio con questi commi dal 133 al 137 ha poi introdotto una possibilità di rideterminare il valore di carico delle criptovalute una sorta di rideterminazione del valore fronte di una perizia sulla falsa riga di quello che siamo abituati a vedere per i terreni e per le partecipazioni quindi è stata introdotta la possibilità di rivalutare il valore di acquisto al primo gennaio 2023 di un importo pari al valore che la cripto aveva a quella data versando un'imposta sostitutiva del 14 per cento per ciascuna criptoattività detenuta l'imposta deve essere assolta entro il era nella norma di bilancio il 30 giugno è stata poi prorogata al 15 novembre 2023 anche qui come siamo abituati per le partecipazioni l'unica soluzione in tre rate con gli interessi del 3 per cento ovviamente l'importo rideterminato non è valido ai fini della quantificazione delle minusvalenze è un provvedimento importante anche questo anche questo non mi pare stia riscuotendo un successo così rilevante ma probabilmente a causa della diminuzione di interesse che c'è stato nel mondo delle criptovalute ci sono stati un po di problemi qualche exchange che è fallito come si è letto anche sui giornali generalisti c'è stato un calo della quotazione delle criptovalute quindi diciamo che il cosiddetto hype nel mondo delle criptovalute ha fatto sì che non ci fosse e quindi anche i provvedimenti di questo genere che si sperava avessero un'ampia risonanza non hanno riscosso il successo sperato per ora vediamo poi man mano che si avvicina la scadenza anche se ormai molto prossima veniamo alla regolarizzazione delle criptovalute che quindi è un ulteriore provvedimento che si affianca alla possibilità di rideterminare il valore delle criptovalute sappiamo ormai molto bene che le criptovalute andavano dichiarate nel quadro rw e i relativi proventi andavano dichiarati all'interno dei vari quadri dei redditi e quindi è stata introdotta questa possibilità di regolarizzare il mancato inserimento sia dei proventi sia delle criptovalute detenute nel quadro rw e quindi i soggetti che non hanno dichiarato le criptoattività ai fini del monitoraggio fiscale possono regolarizzare la propria posizione presentando un'istanza che è valida anche per sanare eventuali violazioni reddituali entro il 30 novembre del 2023 l'ambito soggettivo è quello che vedete in questa slide è quello delle persone fisiche enti non commerciali società semplici ed equiparata ai sensi dell'articolo 5 residenti in Italia l'ambito oggettivo è all'oggetto della regolarizzazione ai fini rw solo le criptovalute importante specificarlo non è una regolarizzazione generale del quadro rw anche su altre attività finanziarie ma solo delle criptovalute e criptoattività come poi vedremo in una slide successiva e ai fini degli imposti i proventi delle criptoattività detenute alla fine o cedute nel corso dei periodi di imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento l'ultimo periodo di imposta oggetto di regolarizzazione è il 2021 perché per il 2022 siamo ancora in tempo per inserire le criptovalute all'interno del quadro rw doppio come funziona la regolarizzazione in termini di sanzioni abbiamo due differenti sanzioni nel caso in cui si voglia regolarizzare il solo monitoraggio fiscale quindi solo la mancata indicazione nel quadro rw doppio la sanzione è pari allo 0,5 per cento per ciascun anno e questo 0,5 per cento deve essere calcolato sul valore delle attività non dichiarate al termine del periodo di imposta o alla data di gestione come abbiamo visto prima la legge di bilancio ha dato la possibilità di regolarizzare anche la mancata indicazione dei redditi derivanti da criptovalute e in questo caso la sanzione è pari sempre allo 0,5 per cento relativa al monitoraggio fiscale ma si aggiunge un'imposta sostitutiva pari al 3,5 per cento per ciascun anno calcolata sul valore delle cripto attività non dichiarate al termine del periodo di imposto alla data di realizzo non è possibile qua è specificato sanare solo i redditi qualora non ci siano violazioni sul monitoraggio quindi se le le criptovalute sono state dichiarate nell'rw doppio ma non siano stati dichiarati eventuali relativi redditi non è possibile usufruire di questa regolarizzazione come presentare l'istanza allora bisogna c'è un modulo da compilare che poi riportato in una slide successiva e questa istanza va inviata esclusivamente via pec entro il 30 novembre all'agenzia dell'entrata ai soliti indirizzi a cui siamo abituati in base al domicilio fiscale nell'ultimo anno di imposto interessato dalla procedura a questa pec va legata la ricevuta del versamento dell'f24 da effettuare in un'unica soluzione e questa è la particolarità principale una relazione di accompagnamento con tutta la documentazione utile a dimostrare la provenienza delle somme investite e la circolare il provvedimento dell'agenzia delle entrate fa anche gli esempi di che cosa bisogna legare a questa relazione di accompagnamento e quindi le contabili bancarie relative all' acquisto delle criptoattività i wallet la stampa dei wallet i numeri delle transazioni e ogni altra eventuale documentazione che sia rilasciata dall'intermediare quindi dagli exchange da cui si possa con la quale si possa ricostruire in modo certo e preciso la riconducibilità delle criptovalute al soggetto che presenta l'istanza l'istanza deve essere firmata digitalmente e qualora non sia firmata digitalmente ovviamente devono essere allegate le copie dei documenti di identità dei firmatari ed è necessario specifica seguire specifiche modalità tecniche di trasmissione che l'agenzia delle entrate ha specificamente previsto quindi oggetto sociale ma mi pare di aver inserito una slide successivamente vediamo come è costruito il modello che bisogna compilare questa c'è ovviamente la parte di frontespizio che ho messo non ho riportato qua nelle slide questa la parte diciamo il cuore del modello da compilare vedete che gli anni di imposta sono dal 2016 al 2021 seppure gli anni aperti insomma ci tornerà poi Emanuele su questo quindi non anticipo la parte del suo intervento e vedete questo modello ha quattro colonne nella parte nella sezione 2 criptoattività detenute nella colonna 1 va inserito il valore delle criptoattività al momento del realizzo quindi nel caso in cui sia stato fatto un realizzo nella colonna 2 va inserito il valore delle criptoattività al 31 dicembre dell'anno quindi nel caso in cui il possesso delle criptovalute sia stato fino per un periodo pari almeno fino alla fine dell'anno nella colonna 3 va indicato il valore delle cripto delle altre criptoattività al momento del realizzo e nella colonna 4 il valore delle altre criptoattività al 31 dicembre dell'anno e quindi vedete che torniamo a quella suddivisione fra criptovalute e criptoattività a cui anche miguel nel suo intervento ha accennato nella sezione 3 vedete che c'è la compilazione dell'imposta sostitutiva e di nuovo gli anni di imposto ovviamente sono gli stessi e bisogna compilarla andando a moltiplicare questa è la sanzione nel caso in cui si vogliono regolarizzare i redditi non dichiarati quindi bisogna compilarla facendo la somma degli importi contenuti nelle colonne 1 2 e 4 moltiplicati per il 3,5 per cento quindi sul 2017 prendo gli importi di qui sopra quindi sia che ci sia stato il realizzo sia che io li abbia detenuti fino fino alla fine dell'anno e calcolo il 3,5 per cento sezione 4 la sanzione quella sul monitoraggio fiscale e quindi di nuovo faccio la somma delle mie colonne della sezione 2 1 2 3 4 e moltiplico per la sanzione che abbiamo visto prima dello 0,5 per cento e qua risulta evidente già una delle prime criticità di questa regolarizzazione che la sanzione l'imposta sostitutiva del 3,5 per cento viene calcolata sulla somma di tutte e quattro le colonne quindi non solo sull'importo delle criptovalute al momento del realizzo ma anche sul valore delle criptoattività o criptovalute che io sto continuando a detenere e quindi il reddito in realtà è stato generato sulle criptovalute che io ho messo a realizzo e quindi in realtà i miei redditi derivano dagli importi delle criptovalute delle colonne 1 e 3 ma la sanzione da provvedimento va calcolata anche tenendo conto delle colonne 2 e 4 quindi in realtà la base a cui applico il 3,5 per cento non è solo quella delle criptovalute che sono state realizzate ma anche quelle che io continuo a detenere anche ancora oggi e quindi la base di calcolo è più elevata rispetto a quella che io utilizzerei nel caso del ravvedimento ma sul confronto sul ravvedimento e regolarizzazione ci torno poi successivamente. Criptovalute e criptoattività quando ho visto il modello mi sono chiesto ma che differenza c'è fra criptovalute e criptoattività che quali criptovalute perché genericamente siamo abituati a chiamarle tutte così mettono nella colonna 1 e 2 e cos'altro metto nella colonna 3 e 4 qua ci viene in aiuto la circolare dell'agenzia delle entrate in consultazione o le varie definizioni le varie fonti che miguel ha riportato nel suo intervento l'agenzia delle entrate in quella circolare in consultazione che appunto ricordo non è ancora stata emanata ma definitivamente scrive che sulla base della funzione economica svolta è possibile effettuare una distinzione fra criptoattività nelle seguenti tipologie token di pagamento o criptovalute e quindi solo queste vanno inserite nella colonna 1 e 2 e sono mezzi di pagamento per l'acquisto di beni e servizi oppure strumenti finalizzati al trasferimento di denaro e valori tutto il resto va messo nelle colonne 3 e 4 e quindi security token utility token e gli nft quindi torno indietro ancora un attimo quindi 1 e 2 sostanzialmente mezzi di pagamento 3 e 4 tutto il resto a quale cambio devo quale cambio devo utilizzare il controvalore in euro è determinato al cambio indicato alla data di riferimento quindi alla data del realizzo al 31 di dicembre sul sito dove il contribuente ha acquistato le criptoattività in relazione alle quali intende avvalersi della procedura di regolarizzazione il punto nodale l'ho accennato prima è il contenuto della relazione di accompagnamento perché è specificato che bisogna dimostrare la lecita provenienza delle somme perché la regolarizzazione delle criptoattività avviene a seguito della dimostrazione dell'irrilevanza penale della provenienza delle somme investite e quindi i vi compresi tutti i delitti che sono qui stati elencati quindi capirete che questo è un punto fondamentale ci sono casi di criptovalute acquistate in anni vecchissimi e quindi probabilmente manca la possibilità di scaricare dal sito del non banking il bonifico fatto dal nostro conto corrente all'exchange su quale sono state acquistate le criptovalute probabilmente abbiamo fatto decine e decine di operazioni quindi andare a risalire a tutte le singole operazioni e quindi a tracciare in modo certo e preciso tutto il percorso che hanno fatto le criptovalute può essere complicato e se non abbiamo tutta la documentazione atta a dimostrare da dove provengono le somme che i giri hanno fatto capirete che può essere problematico dare in mano all'agenzia delle entrate tutta una serie di documentazione sulla quale poi si può interrogare diversamente l'agenzia delle entrate ci ha fornito addirittura in un file word un modello di questa relazione di accompagnamento e quindi ci ha detto che ci sono proprio dei paragrafi nei quali deve essere strutturata la relazione cioè il paragrafo di introduzione nel quale bisogna fornire il quadro generale di tutte le violazioni che formano oggetto di regolarizzazione delle modalità con cui le stesse sono state realizzate e dei momenti in cui sono state commesse e dovranno essere chiariti gli anni interessati della regolarizzazione il tipo di violazione compiuti in ciascun anno quindi ci toccherà del lavoro nel caso in cui si voglia avessimo dei clienti che vogliono usufruire di questa possibilità per andare a spiegare perché e in che modo andiamo a compilare quel modello altre volte siamo stati abituati semplicemente alla compilazione di un modello perché è ovvio che se lo compiliamo è perché ci sono state delle violazioni in realtà l'agenzia delle entrate qua ci chiede di spiegare molto dettagliatamente tutti i perché e i per come ci va poi un prospetto di riconciliazione quindi in questa sezione qua la 2 va inserito un prospetto di riconciliazione tra la documentazione presentata e gli importi riportati nel modello quindi se io ho fatto le stampe di tutti i miei wallet ho fatto le stampe di tutti di tutte le transazioni con gli id delle transazioni devo poi in qualche modo andare a riconciliarli con gli importi che ho messo nelle colonne 1 2 3 4 soggetti collegati perché le criptovalute possono essere riconducibili a due soggetti che hanno fatto insieme fratello sorella amici e quindi in questo caso bisogna specificare quali sono i soggetti chi sono i soggetti collegati e nel paragrafo 4 invece va segnalato in maniera analitica il valore complessivo delle criptovalute di tutte le altre criptoattività indicato nelle colonne del modello 1 2 3 4 per facilitare la ricostruzione del valore indicato dovrà essere predisposto un apposito prospetto in cui indicare separatamente per tipologia il valore delle criptoattività al momento di ogni singolo realizzo la ho la data del 31 dicembre se è ancora detenuta tale data e quindi andrò a dire ho questi bitcoin questi ethereum ho queste nft e riconcilio il valore con il prospetto dell'istanza e con la documentazione di supporto che bisognerà allegare alla relazione di accompagnamento l'istanza di regolarizzazione come deve essere trasmessa deve essere appunto già accennato prima firmata digitalmente va allegata alla pec l'acquitanza del versamento la relazione di accompagnamento con tutta la documentazione probatoria i documenti di identità nel caso in cui non sia firmata digitalmente e bisogna inviarlo agli indirizzi soliti che ho riportato poi nella slide successiva e bisogna compilare l'oggetto sociale della l'oggetto della mail in modo specifico come si detta l'agenzia delle entrate nel suo provvedimento quindi regolarizzazione underscore scripto underscore codice fiscale e poi se ci sono più mail perché c'è un limite di dimensione per l'invio bisogna dire quante mail totali andiamo a fare e che numero di mail è rispetto al totale quella che stiamo trasmettendo quindi ad esempio qua 1 di 4 ecco qua la dimensione massima deve essere di 100 mega questi sono gli indirizzi PEC che sono i soliti a cui siamo abituati per l'invio delle varie comunità dell'istanza di tutta la documentazione e quando si perfeziona la procedura si perfeziona con l'invio del pagamento del modello con il pagamento degli importi dovuti sempre che sia avvenuta la relativa consegna e quindi è importante ricevere sulla nostra sulla casella PEC dalla quale spediamo la ricevuta di consegna da parte del sistema dell'agenzia delle entrate ed è importante perché in caso di mancato perfezionamento della procedura distanza di regolarizzazione non produce effetti e noi abbiamo dato tutta la documentazione in mano all'agenzia delle entrate piccolo confronto anche se non completamente esaustivo fra ravvedimento e regolarizzazione perché finora la regolarizzazione non non ha avuto questo successo appunto come dicevo prima un po' perché manca e è calata l'attenzione sul mondo delle criptovalute ma poi perché forse non è così conveniente procedere alla regolarizzazione ci sono temi di carattere penale perché appunto con la regolarizzazione bisogna dimostrare la tracciabilità chiara e precisa di tutte le nostre criptovalute e in ogni caso ai fini penali non c'è nessuna agevolazione se io mi ravvedo invece ci sono le solite cause di non punibilità o la riduzione della pena a cui siamo abituati con il ravvedimento e con ravvedimento ovviamente non devo trasmettere tutta quella serie di documentazione che abbiamo visto nelle slide precedenti. Il ravvedimento non può essere fatto per la dichiarazione messa e la regolarizzazione sì, il ravvedimento può essere fatto nel caso in cui siano iniziate accessi, ispezioni verifiche invece la regolarizzazione no, la procedura del ravvedimento la conosciamo dichiarazione integrativa e autoliquidazione, la regolarizzazione abbiamo visto il procedimento fin qui. Le sanzioni sulle imposte sono sì con la regolarizzazione in misura percentuale più bassa perché vedete ad esempio qua il confronto 3,5 e dall'altra parte con ravvedimento forse 11,25 a 18 o più alte se la sanzione minima considerata è quella del 120 per cento per i redditi di fonte essere, qui c'è il dubbio non so se poi Emanuele nel suo intervento tratterà anche questo tema. Ma la base di calcolo sul quale viene calcolata la sanzione sulle imposte è diversa nei due casi perché come ho detto in precedenza nel caso della regolarizzazione io calcolo il 3,5 per cento sull'ammontare detenuto al 31,12 e su quello ceduto in corso d'anno quindi devo fare la sommatoria dei due. Con il ravvedimento vado a calcolare la sanzione sull'imposta solo sul reddito che le mie criptovalute hanno prodotto. Sanzione su RVW, 3 per cento da una parte con la riduzione del ravvedimento quindi 0,375 a 0,6 e dall'altra parte 0,5 per cento. Con ravvedimento se ho crediti posso compensare, con la regolarizzazione non posso compensare e nessuno dei due casi si può rateizzare. Quindi quello che bisogna fare con i clienti che vogliono procedere a una regolarizzazione delle criptovalute è un calcolo preciso di che cosa conviene fare mettendo davanti, mettendo, chiarendo al cliente quali sono gli aspetti delicati della regolarizzazione quindi l'invio di tutta la documentazione all'agenzia delle entrate ma anche proprio calcolando in modo specifico quante sanzioni e quante imposte sostitutive bisogna pagare da una parte e quante sanzioni imposte devo pagare con il ravvedimento perché non è detto che con la regolarizzazione siano più basse. Punti di attenzione, la domanda che può venire spontanea dopo aver letto tutta questa pappardella del provvedimento sulla regolarizzazione delle criptovalute è ma perché io devo mettermi in regola? Qualcuno capirà mai che io ho delle criptovalute? Finora probabilmente è andata bene ai clienti che non hanno dichiarato ma ci sono questi due punti di attenzione che sono l'organismo l'OAM con l'istituzione del registro degli operatori delle criptovalute e notizie di oggi su Tecne lo scambio automatico DAC 8. OAM ne avevamo già trattato in un precedente webinar del gruppo di criptovalute quindi non mi soffermo più di tanto ma è importante sapere che tutti i soggetti che operano con le criptovalute sul territorio italiano sono tenuti a iscriversi all'OAM e quindi tutti gli exchange soprattutto quelli principali e più seri che operano con clienti italiani si sono iscritti all'OAM qualcuno addirittura ha costituito una società vera e propria italiana qualcuno ha costituito una branch e il provvedimento del MEF del 13 gennaio 2022 stabilisce che tutti questi soggetti iscritti all'OAM devono trasmettere per via telematica i dati relative all'operazione effettuate da tutti i clienti quindi trasmettono i dati dei clienti e tutta l'operatività che i clienti fanno con cadenza trimestrale e quindi è evidente che l'agenzia delle entrate ha già iniziato ad avere in mano tutta una serie di informazioni su chi ha le criptovalute che movimenti fa e quindi ovviamente da lì viene facile il confronto con quello che è stato indicato in dichiarazione dei redditi. Questo provvedimento appunto è del gennaio del 2022 e quindi da lì in avanti soprattutto perché opera con con soggetti che sono iscritti all'OAM bisogna fare molta attenzione. Dal 2026 questa è la notizia di oggi di ho detto su Eutecne ci sarà lo scambio automatico ai sensi della direttiva DAC 8 che è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale e quindi di nuovo questa direttiva prevede che tutti i dati degli utenti siano oggetto di scambio quindi nome, cognome, tutti i dati, stato di residenza, codice fiscale e a livello oggettivo sono oggetto di scambio tutti i dati delle criptoattività e quindi così come per l'OAM tutti i dati delle transazioni, tutte le operazioni che sono state effettuate. Quindi noi in Italia con l'OAM ci siamo già portati avanti e abbiamo già introdotto quest'obbligo. Quindi insomma bisogna fare attenzione e bisogna seriamente analizzare la questione con quei clienti che hanno criptovalute e che al momento non le hanno ancora inserite in dichiarazione. Sarà la regolarizzazione la via giusta da seguire? Non lo so, bisogna capirlo insieme al cliente analizzando tutti pro e contro che ho tentato di illustrare. Luca ti ringraziamo e veramente complimenti a te e a Miguel per le vostre relazioni. Hai tra l'altro risposto anche al quesito che io ho posto e che giro naturalmente anche a Emanuele per la sua autorevole opinione. Abbiamo in qualche modo capito che anche su questo tema c'è stato diciamo un po' un punto di svolta ormai. Nel senso che io credo che noi da professionisti seri quali siamo a questo punto il consiglio nei confronti del nostro cliente è univoco, cioè benvenga il possesso di criptovalute, però purtroppo o non purtroppo dobbiamo adempiere agli adempimenti dichiarativi. Speriamo di adempiervi avendo dei redditi positivi, cioè delle plusvalenze, in ogni caso dobbiamo anche ricordarci degli obblighi di monitoraggio. Darei a questo punto la parola a Emanuele per diciamo la parte relativa al ai rischi, al contenzioso, agli strumenti di tutela del contribuente, sappiamo che questa è la sua area di specializzazione che la sta conducendo con grande direi risultati, con risultati importanti a livello proprio operativo. Grazie a te Emanuele. Sì, grazie Federico, troppo buono, diciamo che ci impegniamo, ci impegniamo nonostante, nonostante tutto, nonostante magari anche qualche qualche giudizio un po' un po' particolare che arriva dalle nostre corti di merito, ecco. Ma allora io intanto eh devo dire che a mano a mano che ascoltavo le relazioni di chi mi ha preceduto, mi ponevo degli interrogativi. Allora partiamo dal fondo, Federico Federico ci diceva, beh, noi quali professionisti oggi come oggi dobbiamo assolutamente assolutamente fare, dire ai nostri clienti che queste criptovalute vanno dichiarate e io sono perfettamente d'accordo con lui, soprattutto se noi parliamo del 2023 perché eh badate bene che l'obbligo normativo di dichiarare questo tipo di attività è stato introdotto eh sia a livello di monitoraggio che sia a livello di eh a livello dichiarativo in termini di plus valenza realizzate sulla tassazione del 6 per cento dal primo di gennaio 2023. Ok? Ehm prima di questa data un obbligo non c'era eh poi è vero che l'agenzia delle entrate con i propri documenti di prassi abbiamo la risposta all'interpello abbiamo la risposta all'interpello eh 788 del 2021 in cui in cui l'agenzia ci dice ci dice che eh quest'obbligo dichiarativo eh soprattutto a livello di monitoraggio delle criptovalute è necessario eh c'è stata anche a suo tempo ci fu anche un'impugnativa al TAR di questi di uno di questi provvedimenti e TAR disse che in buona sostanza era legittimo mh però rimaniamo nell'ambito della prassi ehm quale poteva essere il problema riprendendo anche un'osservazione molto corretta che faceva faceva Federico Moine ehm anche prima in Furionda prima dell'inizio del webinar diceva beh ma quali sono le concrete modalità con cui un nostro cliente può essere intercettato quale eh possessore di criptovalute e o di criptoattività che dir si voglia beh il primo che mi viene in mente diciamo il più ordinario di tutti e eh si realizza e si manifesta nel momento stesso in cui il nostro cliente converte in valuta fiat quindi in euro tanto per capirci e parlare in maniera un pochino agricola eh converti in euro il suo portapoglio quindi quando lo realizza e quando materialmente se lo vuole spendere nella maniera più tradizionale e certo è che se io nel corso di un anno di imposta ho dichiarato un reddito lordo non lo so di sessanta mia euro eh certificato e dimostrato dagli stipendi ad esempio che nel corso dell'anno sono affluiti sul mio conto corrente e su quel medesimo conto corrente ne arrivano duecentomila in più noi dobbiamo ricordarci che uno scambio automatico di informazioni c'è già eh con il sistema bancario italiano europeo e di tutti e di tutti i paesi che hanno diritto allo scambio automatico quindi ci sarà eh il nostro buon istituto di credito con un omino che eh trasmette quelli che sono i dati delle nostre movimentazioni bancarie tant'è che quando io mi trovo di fronte eh a se mi trovo di fronte a dover gestire una verifica fiscale di natura bancaria questo accertamento bancario che non esisterebbe ma in realtà esiste perché oramai la Cassazione l'ha sdoganato l'agenzia delle entrate eh scodella al contribuente o a me un tabulato con un elenco di tutti i movimenti eh in ingresso e in uscita effettuati nel corso del periodo di imposto oggetto di accertamento ok quindi se io lì dentro eh dell'agenzia lì dentro ci trova i miei buoni duecentomila euro mi verrà a chiedere che origine hanno questi denari ok e laddove io gli dico che sono criptovalute e allora scatterà un discorso volto alla verifica del l'importo del fatto che queste che queste eh questo importo sia effettivamente tassabile alla luce di che cosa? Alla luce di quello che è l'orientamento eh in allora dell'agenzia delle entrate in via di prassi cioè quello di equiparare queste somme il cripto parliamo di criptovalute soprattutto a eh moneta e quindi e quindi se ne andiamo a vederci il nostro bell'articolo 67 antemodifica redditi diversi ci diceva che eh sostanzialmente ehm le plusvalenze eh derivanti da valute estere eh rimedienti da deposito e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo di imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire quindi i nostri fantastici eh cinquantunomila mila eh seiccento quarantacinque virgola sessantanove per almeno sette giorni lavorativi continui ok il che signore non è uno scherzo no io vorrei vedere voglio vedere il funzionario dell'agenzia ma più probabilmente lo chiederebbe a noi di dimostrarlo facendo un artificioso un artificioso inversione dell'onda della prova direbbe beh dimostrami tu che quel quella criptovaluta il deposito in cui la tenevi ammesso non concesso che sia il difensore che il funzionario stiano sappiano esattamente di cosa stanno parlando e questo non è per nulla scontato dimostrami che eh il il conto in criptovalute su cui avevi su cui avevi questa questa moneta elettronica che ha e girato e convertita in voluta Fiat non abbia avuto quella giacenza lì per sette giorni lavorativi continui perché poi perché poi la vita è questa no in sede di accertamento eh diventa tutto molto meno lineare e molto meno allineato i codici di quanto in realtà noi si possa si possa pensare ehm quindi il la prima metodologia di accertamento è questa eh dal 2026 come ci dice come diceva come ci diceva Luca Piovano eh ci sarà questo scambio automatico di informazioni c'è già un registro che è stato istituito e quindi un domani che cosa capiterà? Capiterà che questi strumenti si riavvicineranno sempre di più al rientranno sempre più nel novero di tutti gli altri strumenti eh di natura finanziaria o di investimento di proprietà che una loro tracciabilità ce l'hanno ok ehm al netto di tutto quello che si possa pensare io sono un difensore tributario quindi per carità sono di base a favore del contribuente mh mi ha sempre fatto un po' specie il fatto che mh su questo tipo di strumenti mh ci fosse eh ci sia ancora adesso eh come posso dire una certa un certo vuoto di controllo una certa una certa anarchia no eh che in realtà va poi a eh creare una eh un differente trattamento fra il tizio il cittadino che fa un suo bel investimento azionario e quello che invece si compra criptovalute quindi è normale che gli ordinamenti direi mondiali stiano riconducendo questi strumenti a una loro disciplina tracciabilità ok quindi insomma ci sta ci sta e quindi un domani saranno strumenti che avranno una loro una loro tracciabilità ci sarà come anche oggi esiste ci saranno ehm chiamiamoli delle sorte di paradisi fiscali virtuali ma qual è il problema eh anzi quali sono i problemi e i rischi due il primo è che questi denari virtuali un bel di spariscano abbiamo visto insomma ci sono eh ci sono gli schema ponzi in ambito finanziario ci sono stati gli schema ponzi in ambito bancario ci sono gli schema ponzi anche in questo tipo in questo tipo di investimenti in qualcuno a cui a cui io do queste criptovalute poi non si sa bene dove vanno a finire quindi eh primo primo tipo di rischio eh nel rivolgersi a un operatore magari non censito perché per quanto ovviamente gli ordinamenti si sforzino eh il mondo il mondo del lettere è certamente vasto e quindi un qualcuno di non registrato può certamente fiorire ehm l'altro discorso sarà l'impossibilità fisica di spenderli poi questi denari virtuali o comunque di godere dei diritti associati a questi a questi strumenti quindi eh diventerà un po' come adesso certi paesi in cui io parcheggio i denari e poi di fatto li devo lasciare lì perché appena li muovo eh si accende eh la fatidica spia rossa e prima o poi qualcuno con buona probabilità verrà bussaniato quindi queste sono un po' eh le considerazioni iniziali che faccio che faccio eh occupandomi occupandomi di contenzioso eh in via in via diciamo prevalente e prioritario oramai quindi il problema sarà quello le converti in qualche modo ti trovano ehm il discorso invece più giuridico è che se noi facessimo un ragionamento di stretto diritto pensassimo al concetto di natura civilistica ma applicabile immanente all'ordinamento anche tributario e il concetto della successione delle leggi nel tempo quindi se un qualcosa viene legiferato a partire dal primo di gennaio duemila ventitra in avanti viene legiferato e codificato a partire dal primo gennaio duemila ventitra in avanti se prima quella normativa eh non c'è mi viene da dire mi viene da dire non prendetelo come un atteggiamento che ribaldino assolutamente eh mi viene da dire ma regolarizziamo che cosa? Regolarizziamo in base a quale norma di legge? Ok? E anche la regolarizzazione in sé ha messo in un concesso che noi si decida che va bene lo facciamo perché vogliamo 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 trovarci vogliamo essere nel giusto stare tranquilli evitare che l'agenzia delle entrate eh ci corra dietro noi abbiamo fra la norma appena entrata in vigore che con la finanziaria duemila ventitré ha introdotto la lettera CSEXIS all'articolo sessantasette comma uno noi troviamo alcune contraddizioni rispetto a quella che è la regolarizzazione che ci chiedono di fare perché? Beh perché eh noi come sappiamo come ha detto correttamente Luca nel suo intervento precedente ne dobbiamo andare a regolarizzare un valore posseduto alla eh alla fine di ciascuno dei periodi di imposta considerati e poi vedremo quali sono questi periodi di imposta e faremo un piccolo ragionamento anche su questo no? beh mi dice io devo andare a tassare il mio 3,5% e mi diceva la finanziaria lo 0,5% di qualsiasi criptoattività poi vedremo anche qui che l'agenzia delle entrate con il provenimento del 7 agosto ha corretto il tiro per riallinearsi a quella che è stata la sempre la sua prassi no? Ma ci arriviamo. Comunque anche a volere dare per buono ehm a voler dire va bene regolarizziamo noi abbiamo delle contraddizioni perché? Perché come ci siamo detti se noi applichiamo quella che è la prassi dell'agenzia fino al 31 12 2022 noi dobbiamo andarci a prendere il nostro vecchio articolo 67 e vedere se effettivamente una plusvalenza tassabile c'è stata ok? perché potrebbe non esserci stata ma la norma ci dice regolarizza tutto pagando il 3,5% più lo 0,5 per l'omesso monitoraggio sì ma applicando la norma precedente magari io questa plusvalenza non l'avrei tassata quindi legittimamente pur non essendoci una norma che dedicata espressamente alle criptoattività il mio articolo 67 comma 1 ter mi dice mi diceva fino al 31 12 2022 guarda se hai avuto i 51 mila e i 100 milioni e poi ve lo convertite nei 51 mila erotti per sette giorni lavorativi continui l'hai avuto non l'hai avuto? Io ho avuto dei casi così delle richieste di consulenza in cui il classico possessore di cripto dice ma io ho avuto ho avuto dei guadagni e gli ho detto molto bene verifichiamo dalla documentazione se il questo benedetto saldo ha superato i 100 milioni i 51 mila euro rotti non li aveva superati perfetto caro signore vada tranquillo perché tanto l'agenzia ha messo e non concesso che riesca a trovarla non verrà mai a contestarle niente mentre invece se noi prendiamo la finanziaria 2023 sembrerebbe volerci dire questa regolarizzazione seppur in maniera indiretta no no a me di questo comuno termine non mi interessa niente quindi regolarizza pure ma questo obbligo non c'era o perlomeno non c'era sempre volendo invece andare ma è proprio un ragionamento e quindi poi per carità fatela tutti questa regolarizzazione fatela fare ai vostri clienti e va benissimo così no non vengo a dire altro anche perché se no avrebbe avuto poco senso che il prezioso intervento che di chi mi ha preceduto però diciamo va bene andiamo a beccare l'articolo 67 in vigore dal primo gennaio 2023 redditi diversi perfetto ve lo scorro tutto vado a prendermi la mia comma 2 lettera C sexies e mi dice guarda che comunque c'è una soglia di rilevanza di 2.000 euro ok e poi vedremo che l'agenzia dell'entrata nel nel suo provvedimento del 7 agosto ha fatto anche un passo in più perché qua tenendo conto la normativa vigente oggi il legislatore mi dice guarda che non costituisce realizzo la permuta fra criptoattività aventi uguali caratteristiche e funzioni mentre invece se andiamo a prenderci il nostro bellissimo provvedimento dell'agenzia delle entrate questa distinzione questa distinzione non c'è più andiamola a prendere così smarchiamo questo questo eccolo qua quali sono i contribuenti interessati quelli che hanno messo in tutto in parte di indicare nella propria dichiarazione redditi derivanti da criptoattività incluse le criptovalute realizzate nel periodo di imposta infatti ci sono stati dei commentatori prima fra tutti Dario Deotto che dalle colonne del sole 24 ore dicevano ma in questo caso l'agenzia sembrerebbe dirci che noi dobbiamo regolarizzare anche un qualcosa che la norma oggi vigente definisce come non tassabile quindi la permuta ok perché poi diciamo siamo in un periodo in cui ci sono da recuperare 20 miliardi all'anno di super bonus e quindi poi vale tutto cioè una volta che glielo hai detto glielo hai detto ok e quindi non lo so ricordo ancora il periodo della volontari disclosure che per certi versi vede ovviamente dei caratteri dei caratteri comuni con questa che è una sostanzialmente una mini disclosure delle criptoattività beh tu facevi tutti i tuoi conteggi poi ti arrivava l'atto di contestazione e ti dicevano ma no non sono più o meno giusti dammi un po' di più oppure tu volevi scontarti le ritenute che avevi subito nei paesi in cui avevi parcheggiato i tuoi denari e l'agenzia ti diceva no ma come no è possibile perfetto andiamo fino in cassazione poi veniamo ok quindi io torno a dire fatela assolutamente per carità questa regolarizzazione peraltro questa circolare che è stata in consultazione e che poi non è uscita e che latita non si sa bene dove mi porta a ipotizzare non ho voce in tal senso quindi è una mia personalissima opinione che vale quello che vale mi porta a ipotizzare che secondo me questa questa regolarizzazione in qualche maniera subirà subirà uno spostamento ci sarà un qualcosa di aggiuntivo la prolunga non lo so perché già il fatto che manchi a circolare è un po' è un po' indicativo del fatto che probabilmente c'è un qualche c'è un qualche ripensamento quindi abbiamo detto delle permute diciamo invece una cosa diversa più favorevole al contribuente se ne andiamo a prenderci la legge se ne andiamo a prenderci la legge eccola qua ci parla ci parla in generale ai fini del monitoraggio ci parla di criptoattività ok quindi vorrebbe dire vorrebbe pronto sì ok ho sentito un intervento vorrebbe dire se ne andiamo a prendere la lettera legis che per l'agenzia per il legislatore pardon non per l'agenzia ci fosse un obbligo di monitoraggio in generale per le criptoattività mentre in realtà l'agenzia ha sempre detto in via di prassi no quello che è soggetto a monitoraggio quindi quadro rw doppio sono le criptovalute ed ecco allora che il nostro provvedimento da questo punto di vista questo per farci capire anche da un lato è un bene da un lato ci deve far capire molto del fatto di come spesso e volentieri i provvedimenti dell'agenzia delle entrate che non sono atti normativi in qualche maniera in qualche maniera lo diventino tentino di diventarlo ci parla ci parla provvedimento oggetto della richiesta di regolarizzazione lo ha fatto lo ha evidenziato correttamente e in maniera molto più chiara di me luca prima per quanto attiene allo 05 sono l'omessa indicazione delle criptovalute ok non in generale tutte le criptoattività quindi questo è certamente certamente una un aspetto un aspetto positivo altra questione altra questione che si pone appunto è quella del monitoraggio andiamoci a vedere il nostro fantastico monitoraggio allora se noi prendiamo l'articolo 4 del decreto legge 167 del 90 al comma 1 ci parla di ci viene detto genericamente di investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria ok ma noi sappiamo che il concetto di estero nell'ambito delle criptoattività è un concetto che non esiste ok quindi se noi nuovamente andiamo a ragionare applicare la litra legis noi fino al 31 12 2022 non dovremmo non dovremmo monitorizzare un bel niente ok perché semplicemente la norma non lo imponeva va bene ecco infatti che sempre con la finanziaria del 2000 del 2023 compare al commone dell'articolo 4 del 167 del 90 l'inserimento delle criptoattività quindi diciamo che dal primo di gennaio del 2023 il legislatore si è portato avanti è andato oltre a quella che la sua interpretazione via di prassi quindi non più solo le criptovalute ma oggetto di monitoraggio saranno in generale le criptoattività suscettivi di produrre redditi imponibili in Italia ok e quindi anche qua si crea tutto un problema relativo al fatto anche della determinazione del valore e della documentazione dello stesso ma ci arriviamo quindi il discorso il discorso anche qui se andiamo a ragionare sul monitoraggio di nuovo facciamolo assolutamente però però noi abbiamo un obbligo normativo che nasce nel 2023 ragioniamo invece su un aspetto importante ma su questo messo monitoraggio io se devo fare se devo pagare il mio 05 lo pago su che cosa sul valore sul valore delle di queste criptoattività detenute alla fine dell'esercizio sì perfetto ma se volessi interrogarmi se volessi interrogarmi sulla sulla portata sulla portata delle eventuali sanzioni e beh noi sull'omesso monitoraggio sappiamo che possiamo avere a seconda del fatto che i nostri beni investimenti siano in paese non blacklist o blacklist abbiamo una sanzione che nel caso del paese non blacklist va dal 3 al 15 per cento e nel caso della blacklist va da 6 al 30 per cento ok questo per fare un ragionamento rispetto anche all'ipotesi del ravvedimento o un ragionamento sul fatto di capire quanto potrebbe essere una sanzione ad omesso monitoraggio a me sono concesso che stia in piedi poi giuridicamente che tengo in giudizio ma tanto insomma diciamo che la cassazione spesso volentieri lasciamo perdere le corti di merito la cassazione spesso volentieri e più se sembra più una branca del 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 erario vabbè lasciamo perdere comunque poi per carità magari mi sbaglio e in giudizio non terrebbe però che manca l'obbligo però ci dobbiamo andare a a fare delle domande nel silenzio dei documenti di prassi beh ci viene un pochino in soccorso ci viene un pochino in soccorso vediamo se riesco a zoomare un po ci viene un pochino in soccorso il modello per la regolarizzazione che luca ha fatto vedere anche prima perché perché gli anni che il legislatore considera sono quelli dal 2016 in avanti ciò porta ad escludere il raddoppio dei termini e in tema di monitoraggio dove è che noi ci troviamo avere il raddoppio dei termini ci troviamo avere raddoppio dei termini quando eh deteniamo le nostre attività all'estero in paesi blacklist e se il paese blacklist opera il raddoppio dei termini ma opera anche il raddoppio della sanzione quindi da se al 30 per cento mi viene da dire che eh tenuto conto del fatto che nel modello si parta dal 2016 eh il raddoppio non ci sia e quindi la sanzione base su cui ragionare sia quella che va dal 3 al 15 per cento dunque quella ordinaria in tema di eh di omesso monitoraggio anche qua piccola sottigliezza noi ci eh curiamo dell'anno 2016 solo qualora vi sia stata un'omissione dichiarativa eh perché se la dichiarazione è stata presentata noi in teoria questo 2016 lo potremmo ancora rivedere ok e quindi partiamo dal 2017 in avanti laddove laddove la dichiarazione è stata presentata quindi questo per fare questo per fare alcuni tipi di ragionamenti anche sui termini di decadenza ok da 2016 è quinto esercizio successivo quello di presentazione eh con la dichiarazione dei redditi trasmessa se no diventa settimo anno ok quindi sono tutti ragionamenti che noi che noi dobbiamo dobbiamo fare ehm altra questione che eh sicuramente potrebbe ridurre la pill di questo di questa sanatoria è costituita certamente dalla mancanza di uno scudo penale per cui noi rischiamo di eh fare tutta la nostra bella regolarizzazione ehm e magari ehm se qualcosa non eh se qualcosa va storto o agenzia delle entrate vede ci vede qualcosa messo in concesso che poi questo qualcosa ci sia noi rischiamo di avere un problema poi anche eh ulteriore un problema che potrebbe essere anche solo relativo al reato di omessa dichiarazione in presenza di determinate imposte vasa che non è altissima come soglia no il primo che mi viene in mente e quindi quindi sono tutte sono tutte questioni che eh non depongono a favore di questo tipo di regolarizzazione ultima ma ultimo ma un ultimo aspetto e poi direi che mi avvio eh rapidamente alla alla conclusione è eh il fatto che ehm per quanto mi dicono le persone che in questo momento si occupano di soprattutto di coloro che investono in cripto in criptovalute no perché poi le criptoattività sono qualcosa di un po' più eh come possiamo dire in questo momento un po' meno diffuso ecco mentre invece la criptovaluta è un qualcosa che a titolo di piccolo investimento non fosse altro che di gioco hanno hanno in tanti il problema è per la documentazione perché perché mi dicono io non sono un operator di quel settore quindi quindi ehm vi offro un derelato mi dicono che è molto difficile avere i eh giustificativi del valore a ciascuna alla fine di ciascun anno o ancor peggio riuscire a fare un magazzino titoli corretto per stabilire la plusvalenza al momento della cessione non è facile perché perché sono realtà molto poco formalizzate eh perché non hanno tutti gli obblighi documentali che può avere un istituto finanziario che è soggetto a disciplina di intermediari è soggetto alla banca d'Italia la banca città europea insomma ha tutto un affastellamento normativo anche complesso mancando gli obblighi di informativa non è assolutamente detto che questi documenti repilogativi siano presenti io ho contezze in questo momento che si fa molta difficoltà a recuperare ad esempio eh i dati delle transazioni come non è detto che sia così facile eh soprattutto laddove gli investimenti siano risalenti eh recuperare a ritroso ricostruire ritroso l'origine di quei fondi cioè eh l'origine di quei denari in valuta fiat quindi in euro in questo caso per noi che siamo in Italia l'origine di quegli euro che io ho eh bonificati in allora per investire in bitcoin e che poi con l'alterna fortuna ho tenuto lì e oggi magari ho deciso di regolarizzare anche qui perché eh pur essendo eh documentazione molto più tracciata perché molto più regolamentata eh non è detto che sia così facilmente reperibile insomma io faccio sempre l'esempio quando quando si parla di accertamenti soprattutto quando si parla di accertamenti bancari ehm tento sempre di fare comprendere al funzionario cui interesse in un certo punto o al giudice eh gli faccio un esempio gli dico provi a ricostruire i suoi movimenti bancari o l'origine di determinate somme magari a quattro cinque sei anni di distanza ma già solo andare sull'home banking sull'home banking quei dati lì non li hai quindi devi fare un'apposita richiesta alla banca la quale eh con i suoi tempi te la te le evade ma non hai detto che i documenti che ti da siano poi così esaustivi ok quindi eh abbiamo abbiamo un grosso problema di questo tipo con la volontari trattandosi spesso e volentieri con la volontari di vecchia memoria cioè quella ordinaria chiamiamola così il discorso era un po' più semplice perché seppur con qualche difficoltà i giustificativi tu riuscivi ad averli e l'agenzia tutto sommato tutto sommato l'agenzia era eh si riteneva soddisfatta ma qui non lo so io non so se valgono gli screenshot eh del dei vari movimenti non so se quelle fotocopie eh arrivate di di otto nove anni fa eh di quello che avevamo sul conto corrente può essere ritenuto sufficiente come origine di quei redditi che abbiamo utilizzato quindi ci sono delle criticità operative che eh in qualche modo eh rendono ancora di più insomma l'appeal per questa regolarizzazione in questo momento per quanto mi consta eh piuttosto 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 scarso ecco che altro no per quanto direi che eh direi che per me è abbastanza è abbastanza tutto ecco non so Federico o gli altri eh colleghi intervenuti se vogliono se vogliono aggiungere qualcosa insomma io Emanuele eh ti ringrazio perché anche tu hai fatto una relazione veramente esaustiva eh e hai toccato tutti i punti che pensavamo di toccare insieme anche a Luca e Miguel eh ti chiedo Emanuele se hai ricevuto qualche quesito tu che eri il nostro riferimento anche per eh diciamo la ricezione dei quesiti se non ne fossero pervenuti eh comunque diciamo il numero di partecipanti è stato ben di quarantaquattro quindi un numero rilevante a dimostrazione dell'interesse che comunque la materia eh sta catturando direi che abbiamo raccolto delle importanti indicazioni e senza voler tornare su quanto già detto noi professionisti noi dottori commercialisti abbiamo effettivamente adesso il dovere di dare ai nostri clienti questo nuovo quadro normativo mi è piaciuto il tuo inciso quanto meno a partire dall'anno duemilaventitré quindi diciamo eh questo lo ritengo un fatto eh molto importante ci sono effettivamente delle incognite sulla scelta di aderire o meno alla sanatoria anche per i motivi eh diciamo di possibili riflessi di altra natura che tu hai citato da parte mia direi non avrei altre osservazioni ma naturalmente chiedo a Luca e Miguel se eh loro vogliono precisare qualcosa se hanno ancora qualche tematica da toccare e quindi Luca e Miguel prego io non avrei nulla da aggiungere se non del fatto che il bitcoin sta salendo in questo periodo che leggevo oggi su 24 ore quindi chiaramente è un tema che eh chi ogni tanto ogni due tre anni lo dà per morto se si può mettere l'anima in pace perché chiaramente questo questa cosa qua non avverrà quindi sicuramente se se c'è da dire qualcosa è un tema su cui portare attenzione una volta che anche poi anche chi 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 fa le leggi si è chiarito anche le idee no perché c'è un po' di confusione mi sembra di capire quello che viene fuori io concordo ehm uno dei temi forse più più particolare è quello di far capire ai clienti che c'è questo obbligo perché spesso chi ha le criptovalute o se ne è dimenticato perché le ha acquistate anni fa e le ha lasciate lì o comunque bisogna far capire ai clienti che è necessario dichiararle e inserirle nell'RW adesso stanno arrivando sempre più mail di persone che dicono io ho criptovalute non l'ho mai dichiarata devo cosa devo fare ma penso che rispetto ai numeri di persone che possiedono criptovalute in Italia che ormai sono tantissime come si è visto dai dati che sono stati trasmessi all'OM chi è veramente sensibilizzato sul tema è ancora un numero esiguo quindi dovremmo fare una sensibilizzazione con un lavoro importante da parte nostra e di tutti i colleghi su un mondo che è relativamente nuovo quindi dovremmo metterci alla prova anche qui ecco faccio io una domanda a voi perché torno a dire non opero in questo non opero con le criptovalute con le criptoattività quindi ne so poco ma è effettivamente vero quello che riferiscono molti relativamente al fatto che è difficile reperire la documentazione rendi conto insomma oppure non hanno oppure non hanno tanta voglia ecco cosa No Emanuele confermiamo perché con Luca che poi prego di integrarmi in quanto è lui il relatore abbiamo dibattuto diciamo in modo approfondito su questo tema della difficoltà di reperire la documentazione anche esaminando diciamo un paio di casi concreti Luca se vuoi se vuoi dare tu la risposta più precisa grazie le difficoltà sono molte direi che un'impresa quasi al limite dell'impossibile non avendo adottato magari al tempo dell'acquisto delle criptovalute alcuni accorgimenti perché spesso gli exchange non forniscono una visione storica delle criptovalute sull'exchange è possibile andare oggi in questo momento a vedere che cosa c'è ma non riesco a vedere che cosa c'era a fine dell'anno 2022 ci sono tanti software che vengono pubblicizzati periodicamente che dicono guarda ti faccio il report fiscale metti le tue api quindi in pratica dammi la chiave in sola lettura per entrare nel tuo wallet nel tuo exchange e io ti prendo tutti i dati te li riepilogo e in qualche modo riesco a tirarti fuori un report da dare al tuo commercialista ho visto decine di questi report e sostanzialmente sono o incomprensibili o incompleti quindi per la quasi totalità dei software direi che non funzionano e quindi sì purtroppo un'impresa per le cripto quelle più diffuse come bitcoin e ethereum c'è la possibilità in qualche modo di andare a risalire alla storia le transazioni all'interno del wallet perché è tutto pubblico ma se appunto se è rimasto lì se ho continuo a possedere quello in qualche modo si riesce a ricostruire se come capita spesso li ho trasferiti dall'exchange al mio wallet magari hardware alla mia chiavetta poi li ho rimessi sull'exchange ho messo magari un bot che fa transazioni di decine di transazioni ogni secondo allora ciao possiamo salutarci è un'impresa impossibile aggiungo se posso ancora una cosa io in punto di sanzioni che mi è rimasta nella penna mettiamo il caso che noi non facciamo niente decidiamo di non fare nulla anche perché qui io credo perlomeno quella che è la mia personale opinione da uno che si occupa di accertamento è se vogliamo fare questa regolarizzazione facciamola in maniera blindata cioè carichi i documenti e tutto se no se no onestamente io parlo per me ovviamente io non so se consiglierei a un mio cliente di farla c'è però un altro fatto che di cui deve tenere conto è che mettiamo il caso che l'agenzia le ipo zip e mi beccano mi beccano allora se mi beccano normalmente sull'omesso monitoraggio io vengo raggiunto da un atto di contestazione in cui mi dicono tu non hai dichiarato le tue consistenze in quell'anno se però queste violazioni sono ripetute noi in punto di sanzioni non è un confronto facile ma è un ragionamento che dobbiamo fare anche rispetto al ravvedimento per oso dobbiamo ricordarci che abbiamo il cumulo giuridico e la continuazione ok quindi io poi scusate sono un po' a me piace leggere piace leggere le norme ma non non fosse stato perché così non devo fare le slide no è più è più è più comodo dove l'articolo l'articolo 12 ci aspetta è che lo trovo eccolo qua il mio bell'articolo 12 del 472 del 97 mi dice che quando le violazioni della stessa indole vengono commesse questo lo dico anche a beneficio ai nostri partecipanti che tra l'altro sono stati stabili e sono stabili a tuttora quindi evidentemente non siamo stati così così noiosi e questo mi fa piacere questo per più per merito vostro che per merito mio mi dice il comma 5 dell'articolo 12 concorso di violazione in continuazione che quando le violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi si applica una sanzione base aumentata certamente però la parte interessante è che se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non rinroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento che cosa vuol dire insulto eccolo qua il mio ma non avevo condiviso eccolo qua eccolo qua no che cosa vuol dire in buona sostanza vuol dire che nel momento stesso in cui ho accertamenti plurimi quindi su più anni di imposta l'agenzia delle entrate in sede di determinazione della sanzione dell'anno successivo quindi ho avuto un primo anno arriviamo all'anno all'anno t più 2 nel determinare la sanzione erogherà una sanzione più alta perché c'è la continuazione sotto birichino non una volta ma due tre o quattro ma che cosa farà andrà a defalcare la sanzione che mi ha erogato con l'avviso di accertamento precedente e questo ha un peso importantissimo perché perché ci sono dei casi soprattutto se il contestato rimane più o meno stabile in cui la sanzione al secondo o più probabilmente al terzo anno di fila che mi contestano a zero la sanzione erogata ok quindi anche su questo aspetto poi gli uffici in questi casi cercano sempre di dato che hanno dei range cercano sempre magari di aumentare un po' la sanzione per riuscire a far venire fuori qualcosa ma diventa magari una sanzione risibile tant'è che si ragionava sul fatto di dire beh in certe situazioni se ti beccano su un anno pensiamo all'omessa dichiarazione che non è ravvedibile no perché il ravvedimento sull'omessa dichiarazione non esiste se ti beccano su un anno perché hai fatto una violazione che sicuramente sarà intercettabile intercettabile pensiamo un rw doppio ma pensiamo anche a casi molto più semplici di quello che banalmente ha due cud due cu e non ha fatto la dichiarazione in quel caso ti conviene comunicare all'ufficio che la stessa violazione è occorsa anche in negli anni successivi in modo che se magari l'accertamento viene fatto l'atto di contestazione come sull'rw doppio viene messo da uffici diversi tu possa dire all'ufficio dell'atto successivo quindi dell'atto t più due guarda che mi è già stata erogata una sanzione per la medesima violazione e quindi defalcami quella che mi ha erogato in precedenza ok non è non è una cosa non è una cosa di di rapida forse intuibilità però dobbiamo ragionare su questo perché a volte gli avvisi accertamento escono escono a zero paghi solo l'imposta definita lì ok quindi un altro elemento su cui bisogna ragionare eh fra regolarizzazione ravvenimento per oso e poi c'è pure questo no che va valutato grazie Emanuele assolutamente eh la tua osservazione è molto importante e se non se non sono pervenuti dei quesiti eh potremmo chiudere il webinar che è stato diciamo di grande intensità ringraziare tutti i partecipanti oltre che naturalmente i tre relatori che hanno fatto un lavoro egregio e eh insomma darci appuntamento magari nel duemilaventiquattro eh così a primavera duemilaventiquattro o diciamo avvicinandosi il periodo dichiarativo perché sarebbe obiettivamente interessante fare un focus anche in ottica dichiarativa alla luce delle probabili novità o evoluzione anche magari in termini di avvio di qualche controllo speriamo almeno possibile ma vedremo quello che accadrà in tema criptoattività e quindi a titolo personale ma credo a nome di tutti i relatori ringraziamo i partecipanti e ci diamo appuntamento al prossimo incontro arrivederci a tutti ciao ciao arrivederci arrivederci